Nel corso degli ultimi anni la musicologia ha ampliato i propri orizzonti per tradizioni accademici e specialistici anche in direzione di pratiche musicali di rilevanza sociale quali la musica intesa come evento in riferimento a enti festival rassegne contribuendo così alla formazione di operatori di settore dalla sfera gestionale all'informazione e alla divulgazione. Le attuali dinamiche sociali caratterizzate dall'intersezione tra culture diverse sono inoltre rispecchiate dall'ambito etnomusicologico rivolto anche al dialogo e al confronto interettrico. Il corso di laurea magistrale in musicologia accoglie studenti muniti di lauree triennali a vocazione letteraria, teatrale, storica e artistica o di diplomi accademici di primo e secondo livello. Due percorsi musicologico ed etnomusicologico con punti di contatto previsti da corsi comuni. Lo studente avrà modo di formulare un piano di studi che rispecchi i propri interessi e coniugare gli ambiti strettamente disciplinari storico musicale, drammaturgico, analitico, filmico, etnomusicologico alle discipline letterarie, teatrali, artistiche, pedagogiche, antropologiche. Il corso avvia alle professioni del ricercatore, del docente di storia della musica presso i conservatori o di discipline musicali nella scuola media di primo o secondo livello, di esperto nell'organizzazione di eventi musicali o di critico musicale. Una nuova musica, ascoltare e comprendere i processi storici e sociali. Grazie a tutti.